Potresti già conoscere Guardians, un gioco che unisce l'adrenalina di un FPS in pieno stile Halo alla tattica di uno strategico in tempo reale. Se credi che io sia pazzo e che non sappia di cosa stia parlando, puoi semplicemente giocare Guardians Frontline, sviluppato da Fast Travel Games, e da oggi disponibile su Quest 2. Preparate ad affrontare un lungo viaggio galattico per difendere le colonie terrestri dall'attacco di mostri alieni. Impugna le tue armi e mantieni sangue freddo, perché dovrai prendere decisioni critiche e farlo in fretta. Rimani incollato fino alla fine del video. Like, iscriviti e attiva le notifiche per nuovi contenuti. Questa è la recensione di Guardians Frontline. Fast Travel Games è diventato sinonimo di qualità. Sono tanti i giochi in VR sviluppati da questo team che hanno guadagnato le vette delle classifiche di gradimento e di vendita, e credo proprio che anche questa volta hanno arricchito il mercato con la loro ennesima perla. Guardians Frontline è un FPS sci-fi in cui userai potenti armi da guerra, e sarai al comando di un esercito di robot, i quali ti aiuteranno nelle tue battaglie in single player, partite cooperative o PvP. Le modalità di gioco sono diverse. Affronterai una campagna in singolo della durata di circa 5 ore. Potrai esplorare un'intera galassia, e il divertimento non finisce mai grazie a un potente strumento di creazione di mappe che possono essere condivise all'interno della community, aumentando all'infinito le possibilità di esplorazione e di gioco. La campagna consiste in 13 livelli e richiederà diverse ore per essere completata. La curva di apprendimento accompagna il giocatore meno esperto prendendolo per mano e aumentando gradualmente le sue conoscenze del gioco, fino a farlo diventare un comandante esperto, con missioni di difficoltà crescente e con un ricco tutorial. Sbloccata la prima parte della campagna, potrai accedere alla conquista galattica, che offre obiettivi stagionali, giocabili da solo o con altri guardiani. Il multiplayer è un aspetto molto importante in Guardians Frontline, e avrai la possibilità di creare le tue partite personalizzate, pubbliche o private, in cooperativa o contro altri giocatori. L'editor della mappa, infine, è la chiave di volta per rendere questo gioco potenzialmente infinito, oltre che a dare sfogo alla tua creatività. Le modalità di gioco sono tante. In Conquer, la più difficile, dovrai trovare e distruggere i nidi alieni. In Defend, dovrai proteggere la tua base o più punti sparsi sulla mappa. In Survival, dovrai raggiungere l'estrazione e attendere l'arrivo della nave da trasporto. E in Protect, dovrai scortare un estrattore minerario lungo il suo percorso, e difenderlo durante l'estrazione. E infine, in Domination, dovrai catturare alcuni punti e difenderli per due minuti. Durante le partite in singolo o cooperativa, potrai contare sull'aiuto di un esercito di robot ai tuoi comandi, e potrai usare l'interfaccia di comando per richiamare sul campo altre unità. Per fare ciò sono richiesti minerali, la moneta del gioco, che può essere ottenuta in due modi. Uccidendo nemici che a random rilasceranno minerali, oppure piazzando degli estrattori presso i depositi di minerali sparsi per la mappa. Attenzione però, perché dopo averli piazzati verranno presi d'assalto dai nemici. Raccogliendo minerali, otterrai crediti per richiamare sul campo altre unità, cannoni difensivi, e potenziare quelli già disposti sul terreno. E' questa, fra l'altro, la particolarità più accattivante di Guardians Frontline, ossia la possibilità di switchare in ogni momento da un gioco FPS a un RTS. Avrendo il menu, infatti, potrai attivare la visuale tattica, che ti permette di gestire tutto dall'alto, muovere le unità già presenti e disporre nuove difese. Oltre a questa modalità, in PvP avrai anche la possibilità di giocare incontri deathmatch, o team deathmatch, e supremazia, ossia dovrai catturare le basi presenti nella mappa e tenerle per 10 secondi. Il gameplay non è l'unico elemento sbalorditivo, se consideri che stiamo parlando di una versione stand-alone. Guardians Frontline offre una qualità visiva ricca di dettagli, sia nei modelli che nell'ambiente circostante. Le lande desolate dei pianeti desertici, le distese nevose dei pianeti ghiacciati, gli spettacolari panorami che potrai ammirare guardando attraverso i vetri della tua nave, dove giganteschi pianeti si staiano in lontananza, mentre navi grandi e piccole sfrecciano vicino la tua. Insomma, un gran lavoro a livello grafico, sia nella quantità che nella qualità di ciò che vedrai. In Guardians Frontline, sia nelle modalità FPS che nella visuale tattica, ti sentirai costantemente dentro l'azione. Mentre impugni il tuo fucile, avrai poco tempo per guardarti intorno e organizzare le tue truppe, ma sul campo sarai molto utile, soprattutto in situazioni critiche, con gran numero di nemici, perché le tue armi sono molto più potenti di quelle dei tuoi alleati, e la tua presenza sul campo è indispensabile per riparare le unità danneggiate. Tra un'orda e l'altra, invece, attivando la modalità tattica, ti sentirai un gigante. Il tuo avatar sarà comunque sul campo, e potrai vederlo nel punto in cui eri, e avrai una visuale più ampia e completa del campo di battaglia. Per esempio, avrai una maggiore comprensione dei probabili punti d'arrivo dei nemici, piazzando così difese e unità, per allentare l'avanzata degli alieni. L'ongrevità. Queste routine occuperanno almeno 4 o 5 ore del tuo tempo per la sola campagna in singolo, ma la conquista galattica arriverà a decuplicare questo tempo. Inoltre, le varie mappe possono essere affrontate in cooperativa, cosa che cambia completamente il modo in cui dovrai giocarle, perché l'organizzazione delle difese e delle prossime mosse dipende dal modo in cui collaborerai con gli altri guardiani. Come se non bastasse, il potente strumento di creazione di livelli ti permetterà di creare nuovi campi di battaglia. Potrai scegliere una mappa dalla quale partire, oppure costruirla da zero. Scegliere la modalità di gioco, se in singolo, cop o pvp. Insomma, proprio grazie a questo strumento, Guardians Frontline diventa praticamente infinito, aggiudicandosi il massimo punteggio sulla longevità. È un vero peccato che invece non ci sia una trama ben sviluppata a supportare quanto esposto finora. Sappiamo solo che facciamo parte di questa federazione galattica che si espande pianeta dopo pianeta, resistendo contro un'invasione aliena. Niente di più. Ma parliamo di un FPS misto a un RTS che vuole semplicemente buttarti in un'azione frenetica fatta di scontri epici, in un inferno di proiettili e mostri alieni. E lo fa in modo graduale, così che tu possa imparare con i dovuti tempi. Offre tantissime modalità di gioco in singolo, co-op e pvp. Un potente strumento di creazione e decine, se non centinaia, di ore di gioco. Manca solo una storia ben strutturata. Ma non possiamo certo pretendere che Guardians Frontline fosse il gemello di Halo. O forse sì. Guardians Frontline offre un ottimo comparto grafico. Se consideriamo che si tratta di un gioco stand-alone, un gameplay praticamente infinito e una varietà di modalità che lo rendono continuamente diverso. Di contro non ha una storia solida. L'interfaccia dei vari menu per potenziare abilità e strutture non è tra le più immediate che abbia mai visto. E l'intelligenza dei nemici e delle tue unità a volte è a tir poco esilarante. Grazie per la visione completa. Like, iscrizione e campanella con tutte le notifiche. Se vuoi supportare il canale, utilizza il tasto grazie sotto al video. Ti lascio a qualche secondo di gameplay. Da bene è tutto. Ci vediamo alla prossima. E ci vediamo in VR. Saluti Marmaia. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.